Allora, vediamo insieme l'altra slide che dà un'idea delle persone in transito registrate nei paesi balcanici tra gennaio e settembre 2017-2020 e quindi per rendersi conto eccolo qui, quindi vediamo un po' quali sono anche i, come sono gli andamenti sostanzialmente e dal Monte Negro c'è per esempio, dal Monte Negro c'è un certo tipo di flusso, quello segnato in bianco, poi abbiamo quello in arancione invece la Bosnia e Zegovina che ne ha tantissimi, poi adesso c'è un picco di discesa sostanzialmente vicino a 2020 mentre continuano a salire quelli della Serbia e dal Kosovo o dalla Croazia, quindi questo rende conto che sono andamenti irregolari ma costanti, per poter aiutare cosa doverosa e necessaria bisogna essere in grado di farlo, noi italiani non aiutiamo nemmeno noi stessi, vedi i terremotati dimenticati e non stiamo aiutando nemmeno loro, gli immigrati che nel corso dei decenni c'è chi si approfitta di voti di giustizia rendendo le città insicure. Il tema dell'irregolarità, l'irregolarità è chiaro che crea insicurezza, di questo siamo consapevoli, per questo serve un cambio di regole a partire dall'Unione Europea, perché non basta dire che chi e chi i migranti sono irregolari e quindi non creo neanche quei sistemi, i canali legalizzati, ma anche un ventaglio di tipologia di permessi di soggiorno, di sistema di accoglimento che aumenti la regolarità, perché è solo nella regolarità che io creo le regole per garantire la sicurezza, ma siamo in una situazione e c'è stata recentemente una sentenza del Tribunale di Roma che ha evidenziato questo sistema di irregolarità, per cui io non do neanche il tempo alle persone di fare le domande previste dalla nostra Costituzione, dalla dichiarazione dei diritti umani di Ginevra, cioè per il solo fatto che arrivo da un altro paese non ti metto nelle condizioni neanche di dire perché sei arrivato, in che condizioni, perché vuoi se è venuto via dal tuo paese. Immediatamente ti considero un irregolare, una persona fuori dalla legge e quindi ti rimando indietro. Cioè non c'è modo di dare alcun tipo di spiegazione a massa indistinta. È proprio una violazione di norme costituzionali e di norme anche internazionali, tant'è che l'Italia, il Tribunale di Roma ha condannato l'Italia a quello che Rosanna chiamava le riammissioni negli stati di arrivo, pensiamo per restare alla rotta balcanica, ci sono state oltre 1300 riammissioni dall'Italia verso la Croazia che poi li ha riammessi in Serbia senza che queste persone abbiano neanche potuto dire sono qui perché nel mio paese mi perseguitano, perché nel mio paese c'è la guerra, cioè abbiamo detto sei arrivato, non sei, sei clandestino torna indietro. Ma ci sono delle norme, delle leggi, queste persone non torneranno nel loro paese perché tornano a morte certa. E l'altro elemento che noi dobbiamo tenere in considerazione è che non c'è solo la richiesta di asilo o che si scappa da guerra e carestie che già sarebbe sufficiente, ma chi scappa da condizioni economiche drammatiche, scappa anche lì da una, come dire, dalla morte, non è che c'è differenza, che io soffro la fame perché il mio sistema economico non mi dà delle possibilità o che scappi perché rischio la vita per la guerra, sono sempre una persona che ha della disperazione. Dopodiché noi dobbiamo creare le condizioni intanto del rispetto dei diritti umani di queste persone perché non possiamo rivedere scene, lo diceva Rosanna, su queste file di persone senza scarpe, senza vestiti, in mezzo alla neve che spesso vengono attaccate dalle unità cinofile delle polizie di frontiera di quelle zone e che ci richiamano alla mente delle cose che pensavamo di non vedere più. E questo semplicemente perché sono delle persone che arrivano da un altro paese. E questo perché fa il paio con la politica europea che pensa che chiunque arrivi è un irregolare, quindi se io gli garantisco una situazione di rispetto dei suoi diritti umani e civili, rischio che arrivi tutto il continente. Non è così perché nessuno vorrebbe dover partire dalla sua terra. Io credo che questo sia un elemento basilare dal quale dobbiamo partire. Ecco, Rosanna Vetella, vediamo anche l'altra slide per capire i numeri. Prima non accennava il rischio, sono solo i numeri, quelli in cui siamo a conoscenza, però comunque i numeri ci sono e sono anche spaventosi perché possiamo immaginare, i numeri vuol dire drammi, veramente sostanzialmente. 86.649 arrivi via mare nel 2020, inclusi i rifugiati, i migranti arrivati via mare in Italia, Grecia, Spagna, Cipro e Malta. Questo è aggiornato il 31 dicembre. 7.431 arrivi via terra, inclusi i rifugiati, i migranti arrivati via terra in Grecia e Spagna e 1066 la stima dei morti e degli scomparsi. Questa è un'altra questione, scomparsi e che non si sa... È sempre molto approssimativa questo ultimo dato. Pensiamo, insomma, nel nostro Mediterraneo chissà quante persone sono davvero morte. Allora, come dicevo prima, i numeri non sono interi continenti che si spostano qua da noi. Però c'è comunque una propaganda, che io chiamo fascista, che vede nello straniero, nel diverso, nel chi viene da un altro paese, il nemico. E questo veramente è di una gravità incredibile. Non possiamo assolutamente, lo ripeto, non possiamo assolutamente permetterlo. Sono passati quanti anni dalla Seconda Guerra Mondiale, da quel disastro che è stato, da quella tragedia umana che è stato il nazifascismo. Qua e là si sono riproposti partiti anche. Si sono affacciati alla politica a gruppi politici che invece si rifanno a quelle ideologie. Ed è preoccupante al massimo. Non è che a questo devo contrapporre un buonismo fine a se stesso. Non è questo. Ma è il rispetto dei diritti umani quello che devo porre davanti alla politica, davanti alla cittadinanza. Però bisogna prescindere dall'aspetto politico, perché diciamo che questi paesi che attuano certe situazioni di barbarie non è che sono necessariamente paesi con un governo fascista anziché dalla parte opposta. Lasciamo l'aspetto politico a se stante. Sono comportamenti... Una propaganda che sta crescendo anche qua in Europa. Anche qua in Europa. Per non dovrebbero attuarsi comportamenti a prescindere del genere. Che non può continuare. Infatti mi relaccio anche a quello che stiamo raccogliendo, si stanno raccogliendo firme per una proposta di legge popolare. Già, ne abbiamo già parlato anche in questa trasmissione. In tutti i comuni si può firmare proprio contro la propaganda fascista e nazista. Che, ripeto, la troviamo, la troviamo... Allora, un attimo, non è vero che nessuno vorrebbe partire dalla propria terra. I criminali ricercati sono i primi a scappare dalla loro terra. E dove vanno? Allora, intanto, mettiamo in onda anche un altro messaggio. Ora, quando arrivano vanno in crociera, in quarantena, grazie a spese nostre. E sono tutti ragazzotti belli e robusti. Chiedo un'altra cortesia. Se dalla regia ci mette in onda la slide relativa alla raccolta fondi, così mentre Rosanna spiega perché si stanno raccogliendo dei fondi destinati all'acquisto di beni di prima necessità, pacchi alimentari, legna per le cucine collettive e altre cose che sono estremamente importanti e utili, proprio perché si raccontava prima fuori onda per... eccolo qua. Donazioni, la causale Europa rotta balcanica, Clipsia, Banca Popolare Etica e c'è l'Iban e anche la Caritas italiana. Proprio perché c'è un intento di evitare che tante cose vengono mandate lì, che ci siano problemi alle frontiere, blocchi e poi per muovere si spera un po' l'economia in loco, insomma con l'intento di questo genere. Eh sì, perché là dove insistono questi campi, dove ci sono queste situazioni così gravi eccetera, dove c'è un ammassarsi di persone, no? Si concentra un numero importante di persone che vorrebbero andare altrove, non vogliono stare là e questo è un po' quello che diceva anche Silvana, no? Nel momento in cui noi facciamo entrare, permettiamo l'ingresso illegale e non invece lo facciamo attraverso leggi, attraverso flussi regolati e quant'altro diventa. E poi è chiaro che l'illegalità si accompagna molto spesso anche alla criminalità perché uno per sopravvivere fa di tutto, è disposto a tutto. Per salvare se stesso o la propria famiglia. Devo interrompere un attimo, abbiamo la pubblicità quindi pochi secondi, poi ritorniamo ancora insieme, leggiamo eventualmente gli altri messaggi che arrivano prima della chiusura e sentiamo anche un po' altre cose, altre iniziative che sono in atto tra poco.